Ciao ragazzi, sono Cecilia Zanotti, oggi faremo un nuovissimo video e le scritte Ciao ragazzi, ci sono anche io ovviamente, non posso mancare E ragazzi, oggi faremo una challenge, no? Per oggi, come avete già letto dal titolo, faremo degli avatar per Natale Beh ragazzi, infatti, come vedete, Brookhaven è diventato tutto natalissimo Eh già E ragazzi, è diventato bello Beh, iniziamo a prendere una bella casettina Ok, andiamo Ok, adesso scegliamo, tipo, delle cose per metterle nella nostra casetta Allora, ok ragazzi, adesso facciamo il nostro avatar Tra me e mia sorella, che adesso c'è anche mia sorella Ah, ok E ti dicino a me Eccola qui Scegliete ragazzi tra me e la Cecilia Secondo voi qual è il avatar più carino E adesso andiamo alla prossima sfida Tarada Vai via, no, no, basta, vai via Apriresti la porta potrei uscire Ma scusa, sei tu che non aprivi la porta E' antipatica mia sorella molto Allora, adesso sta arrivando Allora, sta per arrivare adesso Fatto, ok Andiamo a chiamare mia sorella per votare E lei Oddio, eccola E lei, dobbiamo votare Aspetta, ci sono, se Ragazzi, c'è anche la mia amica Victoria Ciao babbu Oggi vengono tutti, oggi ragazzi Oh no, sei andata No, che sad Ok Che sad Vabbè Mi dispi Vicky ritorna Allora ragazzi Votate tra me e Cecilia Cecilia Stai ferma Grazie babbu Piacere Stai ferma Cioè Stai qui vicino a me Ok No Togli quel regalo che non si vede il tuo avatar Scusa ma sto mangiando Votate ragazzi Tra me e la Cecilia Mi raccomando Allora, comprate anche voi Questo pan di zenzero È veramente molto buono Allora ragazzi Per me mettete il sushi sotto i commenti Per la ceci mettete sempre la farfalla No, per me è sushi Per me è sushi Va bene Per la ceci la sushi Per me è una farfalla I love sushi E per mio babbu Una faccina strana Per me è una farfalla Per me è una farfalla Ok Chiediamo a mio babbo Se vuole farla anche lui Vuoi fare anche tu la sfida babbo? Sì Bravo, bravo Allora Ti devi vestire natalizio Cioè Devi essere natale Allora Devi andare qui E poi Devi andare dai maschi Da qui Mi sono capito ragazzi Io me ne vado di sopra Ciao Babbo Perché hai messo il tuo avatar Ok Ok Io vado subito a ca... Ci metti Ci metti Finito Dava Ragazzi Se questo video Aspetta Aspetta Dovete ancora votare Sì sì Arrivano Sto arrivando Se questo video Supera I dieci like Faremo anche la parte due Ragazzi Tito Tito Ci arriveremo ai dieci like No? È Dindon È Teodindonato Oh Ma quanto c'è bella Ragazzi Sono già chi ha vinto Ci sono eh Ciao babbo Natale Votate Allora Se vince il babbo Mettete faccina strana Allora Se vince Il babbo Faccina strana Magari stiamo un po' fermi Non iniziamo la discoteca Ovviamente Farfalla Come ho detto prima E la Cecilia Sushi Mi raccomando ragazzi Votate Beh ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Spoliciate all'insù E iscrivetevi al canale Ciao a tutti raga Bye